Benvenuti. Oggi l'obiettivo che vogliamo centrare io e Gabriele, allora qualcuno di voi ci conosce già, quindi alcune cose che noi diremo probabilmente qualcuno li ha già sentite, ma le ripeteremo anche per chi magari non ci ha mai sentito. L'obiettivo nostro è che voi vi portiate a casa il seguente concetto. Qualunque cosa sia dentro di voi, fuori di voi, sopra di voi, sotto di voi, di fianco a voi, lo state respirando, lo mangerete, qualunque cosa vi circondi è stato fatto dalle stelle, anche voi stessi. Voi siete polvere di stelle, ogni atomo del vostro corpo è stato fatto all'interno delle stelle. Questa è la consapevolezza che noi vogliamo che vi portiate a casa per questa sera. E adesso che abbiamo già detto l'assassino, praticamente dell'intero giallo, facciamo la storia al contrario, cioè cerchiamo di capire come abbiamo scoperto l'assassino. E il mio compito è quello di traghettarvi dall'Ottocento fino a circa metà del Novecento, facendovi vedere le prime mosse che abbiamo condotto alla scoperta di questa grande verità, mettiamola così, e poi passo la parola a Gabriele che vi dirà invece le cose di, mettiamola così, ultima generazione, alcune cose proprio ultimissima generazione. Allora, parto dall'Ottocento. Perché parto dall'Ottocento? Perché l'Ottocento è il secolo del grande progresso. Qualunque cosa noi usiamo oggi, più o meno, è stata inventata nell'Ottocento. La luce artificiale, la locomotiva, l'aspirina, la dinamite, l'energia elettrica, la pila, il motore a scoppio, il grammofono, l'aspirapolvere, il telefono, la Coca-Cola, i surgelati, il rasoio. Ecco, quasi tutto è stato inventato nell'Ottocento, è il secolo delle grandi promesse del progresso scientifico, quello che doveva mantenere questo standard molto alto di richieste, con la scienza dietro che prometteva e manteneva un benessere continuo. Di fatto la grande rivoluzione per gli astronomi è questa, è quella delle lastre fotografiche. Questa lastra fotografica rappresenta una stampa all'albumina del 1876 con la vista panoramica di Costantinopoli. Perché è importante per l'astronomo la lastra fotografica? Io non so se voi avete mai provato ad osservare a un telescopio, è bello, è affascinante, mettete l'occhio all'oculare, ma se dovete fare della scienza, quella cosa che voi vedete la dovete riprodurre, far vedere a qualcuno. Allora mettete l'occhio, staccate, scrivete, mettete l'occhio, staccate, scrivete, è un casino tenere le misure corrette. Galileo per capire dove stavano davvero i satelliti di Giove si è dovuto inventare tutto uno strumento, un righello in un certo senso, per misurare esattamente lo spostamento dei satelliti che lui vedeva all'oculare del telescopio. Non è una cosa banale, compito a casa, provate con un binocolo a osservare la Luna e riprodurla fedelmente su un foglio, è complicatissimo. È molto più facile se voi lasciate che la luce che arriva dalle stelle impressioni una lastra fotografica. Oh che bello, la luce arriva, impressione la lastra, la lastra è già fatta, voi non dovete disegnare niente. Che cosa abbiamo bisogno noi, astronomi? Noi abbiamo bisogno della luce, quindi, che arriva dalle stelle e la lastra fotografica deve essere pronta ad accogliere questa luce. La luce è un modo semplice per chiamare una cosa che noi fisici chiamiamo in maniera complessa, no? Radiazione elettromagnetica, che cos'è? Ovviamente la luce che è un insieme un po' più ampio di quello che noi siamo abituati a considerare. Noi consideriamo luce quella che vediamo con i nostri occhi, ma la luce ha un panorama molto più ampio che va dai raggi gamma fino alle onde radio. Immaginate sempre la luce come trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni e i fotoni dei raggi gamma sono molto più energetici di quelli delle onde radio. La loro energia diminuisce andando da sinistra a destra. Molto energetici i raggi gamma, che sono quelli coinvolti all'interno delle reazioni termonucleari e quelli che ci preoccupano se c'è lo scoppio di una bomba oppure qualche problema in qualche centrale nucleare. Il motivo è che questi fotoni così energetici possono interagire con il nostro DNA e rovinarlo. Poi abbiamo i raggi X un po' meno energetici e in qualche modo anche utili, perché se ci rompiamo qualcosa andiamo a fare le lastre con i raggi X. Gli ultravioletti, che sono quelli per cui vi sgridano, mettete la crema anti UVA e UVB, perché il sole ci fa arrivare parte della radiazione ultravioletta, che può essere dannosa e quindi ci mettiamo la crema. Il visibile è quello a cui sono sensibili i nostri occhi, il motivo per cui io adesso vi vedo e voi vedete me. L'infrarosso è quello con cui noi osserviamo i corpi caldi. Un qualunque corpo caldo emette radiazione infrarossa. E poi abbiamo le microonde, che sono quelle che usiamo a casa, perché quasi tutti abbiamo a casa un generatore di microonde, con cui scaldiamo il latte, il tè, l'acqua, la pasta, il riso e così via. E poi le onde radio, che sono quelle con cui state mandando i messaggi WhatsApp, o i messaggi, gli SMS, o le immagini, qualunque cosa. Ora, questo è per dimostrarvi che questo spettro della luce lo conoscete tutto. Qui vi ho messo alcuni esempi. Questa è la luce a cui noi siamo abituati. Questo è un infrarosso, in cui vedete un viso di una ragazzina, in cui le zone più calde sono, ad esempio, queste, dove passano le arterie giugulari, i capelli sono più freddi. Questa è un'immagine di una casa con le montagne. La casa è calda, le montagne sono più fredde. Con i nostri occhi noi non vedremmo assolutamente nulla. Queste telecamere vengono utilizzate, ad esempio, negli antifurti, per vedere se c'è qualcuno che entra durante la notte, ma soprattutto viene utilizzata questa modalità di visione da molti rettili, perché cacciano di notte, devono stare attenti a non addentrare il tronco di un albero, ma un topo caldo. E poi abbiamo le lastre a raggi X. Per la precisione, questa è l'immagine della mano della moglie di colui che ha scoperto i raggi X, Röthgen. E se calcolate bene falange, falangine, falangette, quello è l'anulare e quello è l'anello all'anulare. Quindi, insomma, testimonianza dell'amore della moglie, ecco, a quale il marito gli ha fatto fare una serie di lastre che non credo gli abbiano fatto molto bene. Ora, no, mannaggia, non si vede tanto. Questo è il cielo sopra le nostre teste alle 11 e mezza di questa sera. Non si vede qua, non si vedrà fuori, perché tanto è tutto nuvoloso. Quello che vi volevo far vedere è che se guardate verso sud, qualcosa si vede però, se guardate verso sud questa sera e il sud, secondo me, è di lì, mi confermate che il sud è di lì? Nessuno sa mai come siamo orientati, non vi preoccupate, è di là. Ok, hanno tirato fuori delle... Eh no, allora, di là o di là? Beh, la maggioranza dice di là. Vabbè, compito a casa, capire come è orientata l'aula della crociera alta della statale. Allora, guardando verso sud questa sera alle 11 e mezza, quello che vedrete comparire, lo vedete qui, queste tre stelle le vedete, sono la cintura di Orione. Questo è appunto il gigante Orione, qua di fianco c'è il toro, non si vedono, qua ci sono le corna, e qui sta sorgendo Sirio. Perché vi faccio vedere questa parte del cielo? Perché già questa ci indica qualcosa. Queste costellazioni con cui noi ci orientiamo nello spazio, già qui ci portano delle formazioni in più. Ad esempio, questa stella che si chiama Betelgeuse, che è la spalla di Orione, è una gigante rossa. E questa stella che è nella costellazione del toro, è Aldebaran, è l'occhio infuocato del toro. Perché è l'occhio infuocato? Perché è una stella che tende al rosso. E qui, invece, Sirio è una stella che, se la guardate per bene, tende all'azzurro. Le stelle hanno dei colori. È difficile accorgersene con la nostra retina, ma è così, le lastre fotografiche sono molto più utili da questo punto di vista. Ma qualcuno se n'era accorto. Ho passeggiato una notte lungo il mare sulla spiaggia deserta. Non era ridente, ma neppure triste. Era bello. Sul fondo azzurro scintillavano stelle chiare, verdi, gialle, bianche, rosa chiare, più luminose delle pietre preziose che vediamo a Parigi. Chi è? Van Gogh. Van Gogh si rende conto del fatto che le stelle sono colorate. E ha ragione. Le stelle sono colorate. Se noi facciamo passare la luce di una stella dentro un prisma, la luce si scompone nelle sue componenti fondamentali, nei suoi colori fondamentali. Immaginate proprio che i fotoni che passano attraverso il prisma compiano dei cammini diversi, quindi si separano. E quindi avete i fotoni rossi da una parte, gialli, verdi, azzurri e blu da un'altra. Quello che noi possiamo fare è andare a contare questi fotoni e quello che possiamo capire è che se una stella emette il maggior numero di fotoni nel blu, sarà una stella blu, il maggior numero di fotoni nel verde sarà una stella verde, il maggior numero di fotoni nel giallo sarà una stella gialla. Direi che è una cosa abbastanza semplice. Eh, sarebbe semplice se finisse tutto qua. In realtà, se fate passare la luce di una stella attraverso un prisma, non producete esattamente un arcobaleno perfetto. Avete provato a vedere l'arcobaleno dal sole? Si vede magari attraverso i vetri, se scrivete ancora con le penne Birobic vi entra il raggio di sole, potete vedere addirittura l'arcobaleno sul foglio. Di fatto, se usate però uno strumento un po' più ricercato, come quello che usano gli astronomi, vi accorgete che non c'è un arcobaleno perfetto, ma l'arcobaleno è solcato da delle righe nere. Angelo Secchi, nel 1860, si accorge che le righe nere sono diverse per diversi tipi di stelle, che lui chiama stelle di tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E questo pezzo lo prendiamo e lo mettiamo in tasca, 1860. Stessi anni abbiamo Bunsen e Kirchhoff che si mettono in laboratorio a riscaldare moltissimo dei gas composti da degli atomi particolari, dal neo, un idrogeno, azoto, mercurio e così via, e fanno lo stesso gioco, fanno passare la luce di questi gas che fanno diventare incandescenti attraverso un prisma e quello che ottengono è che non trovano un arcobaleno continuo di colori, ma soltanto alcune righe di luce. Guardate l'idrogeno, ad esempio, questa riga, questa riga e questa riga. Cosa sta succedendo? Allora, per cercare di capirlo, cerco di fare la spiegazione più semplice, più banale possibile dell'atomo. Quindi è molto, 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 molto semplificata, ma a noi può bastare così. Allora, l'atomo da che cosa è fatto? Da un nucleo che contiene neutroni e protoni e tutto attorno ci sono gli elettroni, ok? Mi perdoneranno i chimici per questa semplificazione eccessiva. Ora, e adesso è peggio, adesso vado... Ora, gli elettroni possono stare su diversi piani. Immaginate come se gli elettroni stessero sui piani di un palazzo. Ora, per passare dal piano 0 al piano 1, al piano 2, al piano 3, consumo delle calorie. Io devo fare delle scale, normalmente, consumo delle calorie. Allora, magari, a volte sono molto, molto stanco e mi servono delle calorie per andare al piano di sopra. Mangio un cracker che mi dà esattamente le calorie giuste per andare al piano sopra. Bene, anche l'elettrone ha bisogno di energia per salire. Un'energia ben precisa. Perché un'energia ben precisa? Perché ogni piano è diverso l'uno dall'altro. Allora, magari per andare dal piano 1 al piano 2 mi servono due cracker, per andare dal piano 2 al piano 3 me ne serve uno e me ne serve mezzo per andare dal 3 al 4. Perché le energie che mi portano ai diversi piani sono diverse. E chi dà l'energia all'elettrone per salire? Beh, quelle particelle che si chiamano fotoni, che trasportano luce ed energia. Allora, supponete che arrivi un fotone che gli dà l'energia giusta per salire al piano di sopra. Ora, l'energia è luce. E la luce, abbiamo visto, può essere di diverso tipo, di diverso colore. Energie diverse equivalgono a luci, a colori diverse. Allora, può essere che un fotone giallo gli dia abbastanza energia da salire al piano successivo. E poi, per salire al piano successivo, ha bisogno di un'energia diversa che è quella del fotone arancione. E poi, per salire al piano successivo, ha bisogno dell'energia del fotone rosso. E poi, dell'energia del fotone ancora più scuro. Cosa succede? Che quando l'elettrone è là, è su, a un certo punto, lui tende continuamente ad andare nello stato più basso di equilibrio, allora da lì scala i suoi piani, ritorna giù e a mano a mano che scende, riemette il fotone che gli ha dato l'energia. Ok? Quindi, il fotone più scuro, poi il fotone più rosso, poi il fotone arancione, poi il fotone giallo. Più o meno avete colto il punto. Ora, la cosa straordinaria è che non solo questi piani sono diversi gli uni dagli altri, ma ogni elemento chimico ha un palazzo che è diverso. Ogni elemento chimico ha dei piani diversi gli uni dagli altri. E quindi, queste righe che voi vedete, ad esempio, dell'idrogeno, sono esattamente quei fotoni che l'elettrone emette quando salta dal terzo piano, al secondo, al primo. E l'idrogeno emette solo quelle luci lì, che sono le luci, le energie caratteristiche di quei livelli del palazzo. Il neon o l'azoto, il mercurio, il ferro ne mettono altre, perché i piani del palazzo, del ferro o del mercurio o del neon sono diversi. Quindi, qui voi avete un'impronta digitale degli elementi chimici. Ogni elemento chimico è diverso da un altro ed emette luce diverse. Ora, che cosa succede? Che quando voi guardate le stelle, una stella emette luce, produce luce al suo interno, poi vedremo anche come, quando la luce esce dalle stelle passa attraverso uno strato che è più freddo di gas. La luce arriva a noi e noi, che cosa succede? Vediamo l'arcobaleno con delle righe nere. Quelle righe nere? Altro non sono che assenza di luce. Cioè, qui, semplicemente, i fotoni non sono arrivati. Quei fotoni lì, quella luce è stata rubata. Da chi? Da qualcuno che c'era là e che ha rubato quei fotoni, ha rubato quell'energia e a me non arriva più. L'ha rubata un elettrone che ha cominciato a fare il salto in alto sui diversi piani del palazzo. La cosa straordinaria è che, come vi dicevo, quelle righe sono un'impronta digitale perché ogni atomo emette e ruba delle righe ben precise. E quindi io, guardando la posizione di queste righe, riesco a capire esattamente quali elementi chimici ci sono là a milioni di anni luce di distanza. Ora, questa cosa hanno cominciato a capirla appunto nell'Ottocento e il primo ad essere interessato a tutto questo era Harry Draper. Qui vedete tre spettri, si dice, di stelle in cui vedete appunto questa divisione dei fotoni tra il rosso e il blu. Non vedete i colori, ma sostanzialmente qui immaginate di avere il rosso, qui immaginate di avere il blu. di Sirio, Capella e Mira. E vedete come sono diverse tra di loro queste tre stelle. Lui decide di fare un catalogo, però purtroppo viene a mancare troppo presto e la vedova di Harry Draper consegna questo mandato a un'altra persona, a Edward Pickering. Edward Pickering accoglie la proposta e decide che per fare questo lavoro dovrà assumere 46 donne e solo donne per ordinare, dividere, catalogare e classificare il materiale. Lui vuole solo donne. 46 donne assunte all'interno dell'Università di Harvard. Ora, questo è il motivo che ha detto lui, le donne costavano meno. Quindi, con un po' di malizia, se vogliamo, Edward Pickering assume 46 donne. Al di là di tutto ciò del fatto che gli convenisse non gli convenisse, di fatto è comunque un'azione da illuminati e poi vedremo dopo perché, perché il paragone con altri uomini di quei secoli è impietoso. Lui ci ha creduto e questo comunque garantisce a 46 donne di entrare di ruolo all'interno delle università come lavoratrici e badate che come studentesse era loro proibito. proibito. Passa alla storia questo gruppo di ricerca come le calcolatrici di Harvard o l'AREM di Pickering. Voi scegliete quale versione preferite. Tra di loro c'è Annie Cannon. Annie Cannon viene assunta nel 1896 e è abbastanza disperata perché la sua vita, insomma, è orfana di madre e poi di padre e non sa bene come guadagnarsi uno stipendio. chiede alla sua professoressa di fisica che gli dice ma prova a mandare il curriculum ad Harvard e lei diventa l'assistente del professor Pickering. Il suo compito è quello di analizzare gli spettri delle stelle e compilare questo catalogo Draper. Qui è dove lavora e in realtà questo è quello che deve osservare cioè non sono delle cose pulite come quelle che vi ho fatto vedere prima. Insomma, era abbastanza complicato. Che anni sono quelli del 1896? Beh, è l'anno in cui viene proiettato per la prima volta il film l'arrivo di un treno alla stazione della Ciotada dei fratelli Lumière e la gente scappa dal cinema perché ha paura che il treno gli vada addosso. E Marconi realizza la prima trasmissione di segnali radio a tre chilometri di distanza, Ramsey scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X. Bene, Annie Cannon osservando qualcosa come 500.000 spettri di stelle arriva a questa conclusione che c'è una relazione tra come sono fatte le righe nere all'interno degli spettri e il colore della stella e lei divide quindi le stelle in classi spettrali di questo tipo. Cioè, lei dice che le stelle blu intense sono di tipo O, blu B, blu bianco A, bianco F, giallo G, arancione K, rosso M e rosso più scuro R, N, S. Ora, se voi andate a chiedere a un professore universitario di dirvi qual è la classificazione stellare vi risponde O, be a fine girl, kiss me right now, sweetheart. E non vi sta davvero chiedendo un bacio ma sta recitando la filastrocca che Annie Cannon stesso ha inventato in cui l'iniziale delle parole della filastrocca replicano la categoria di divisione delle stelle. Ok? O, b, a, f, g, k, m. Ok? Bene. Quindi, Annie Cannon nel 1915, neanche farlo apposta, quando mi hanno proposto di fare questa Christmas lecture mi è venuta in mente questa cosa per quello che poi ho voluto parlare di loro. Annie Cannon nel 1915 decide di descrivere il suo lavoro proprio in una cartolina natalizia in cui cerca di spiegare che cosa fa. e io la leggo a voi. Fin dal 1882 con crescente abilità gli astronomi sono riusciti a fotografare la luce delle stelle così bene che il meraviglioso messaggio senza fili di quei corpi lontani può essere oggi decifrato. La luce di una stella cade nel prisma del telescopio e così ingrandita può essere scomposta in una banda che mostra i colori che la compongono i raggi rossi da una parte e quelli violetti dall'altra. Questo è lo spettro della stella. La foto non mostra i colori ma e questa è la cosa più importante rivela la presenza di alcune linee scure poche in alcuni spettri numerose in altri. Queste fantastiche linee scure sono diventate un felice terreno di caccia per gli astronomi moderni. Comparandole alle linee prodotte dalle sostanze luminose in laboratorio possiamo infatti constatare che elementi familiari a noi sulla Terra sono presenti anche nella più remota stella. Misurando la posizione di queste linee misteriose si può scoprire se una stella si stia avvicinando o allontanando. Il miglior osservatorio per trarre il miglior materiale per questo tipo di indagine è senza dubbio quello di Harvard. Per questo per me è stata una grande fortuna poter classificare tutte le stelle cui spettri fossero sufficientemente nitidi sulle foto di Harvard. Sono stati esaminati gli spettri di più di 200.000 stelle. I risultati ci aiuteranno a svelare alcuni misteri del grande universo a noi visibile negli abissi di lassù. Ci procureranno materiale per indagare quei soli lontani di cui non sappiamo nulla se non quello che possiamo dedurre dai raggi di luce che viaggiano da anni a grande velocità nello spazio destinati a raccontare la loro magica storia sulle nostre lastre fotografiche. Questi sono gli auguri di Natale di Annie Cannon altra cosa che mi piacerebbe portaste a casa con voi ma la nostra storia non finisce qua. Nel 1924 lei consegna il catalogo Draper che contiene lo spettro di 225.000 stelle e con tutto quel bagaglio di informazioni escono poi degli importanti studi come quelli di Eddington che finalmente cerca di capire inizia a capire come funzionano al loro interno le stelle perché allora come funzionassero le stelle mica era chiaro. Eddington ci passa la palla per parlare di un'altra donna Cecilia siamo dall'altra parte dell'Atlantico siamo in Gran Bretagna dove Cecilia riesce a studiare con una borsa di studio del Newman College e vuole studiare botanica chimica e fisica. Poi arriva Eddington che racconta della sua esperienza durante l'eclissi del 1919 in cui dimostra che effettivamente Einstein ha ragione la relatività generale di Einstein pubblicata quattro anni prima è vera è reale è conforme con quanto viene osservato da Eddington c'è grandissimo entusiasmo lui fa questa lezione al college dove studia Cecilia Cecilia è entusiasta la notte stessa torna nella sua stanza riscrive a mano la sua la lezione di Eddington ed è pronta a cambiare la sua vita e passare da botanica chimica e fisica ad astronomia l'astronomia è un percorso di studi che era ed è molto legato alla matematica e in questo percorso c'è qualche ostacolo da superare come il signor Rutherford gli studenti se lo ricordano perché quello del modello dell'atomo bene lui non gradiva il fatto che una donna seguisse le sue lezioni era l'unica Cecilia a seguire queste lezioni e vigeva una regola per cui tutte le file di banchi dovevano essere occupati da un genere solo perciò se si sedeva una femmina all'inizio tutte femmine dovevano essere non potevano sedersi dei maschi e quindi un'intera lista di banchi andava vuota perché Cecilia era da sola allora lui iniziava tutte le sue lezioni scandendo molto bene prendendo in giro Cecilia dicendo ladies and gentlemen e metteva in guardia sua figlia che diventa amica di Cecilia per dirle che stai attento mia cara perché guarda che Cecilia non è interessata a te è interessata solo a me nonostante tutte queste ostacoli non espliciti impliciti a volte gli ostacoli per far fatica una persona non devono essere scritti nero su bianco basta qualche atteggiamento scomodo per far perdere un po' la voglia nonostante tutto lei ce la fa perché è una tenacia pazzesca finisce si laurea e chiede a Eddington ha detto vabbè io adesso che faccio? Eddington le consiglia di andare da Erlo Shapley che altri non è che il successore di Edward Pickering quello dell'ARM di Pickering Harvard e gli scrive una lettera di presentazione ve la leggo io scritta molto piccola lettera di Eddington a Erlo Shapley Cecilia Payne ha raggiunto una vasta conoscenza delle scienze fisiche inclusa l'astronomia e possiede preziosi qualità di energie ed entusiasmo sul lavoro credo sia il tipo di persona che data l'opportunità possa dedicare l'intera sua vita all'astronomia e non voglia correre via dopo alcuni anni cercando di maritarsi vabbè poi si marita di fatto lei arriva da Shapley e ha come tutor Annie Cannon con tutto il suo bagaglio di informazioni e di spettri lei scrive questa tesi la trovate addirittura sulla Wikipedia so che è sconosciuta Cecilia Payne ma se guardate la vita di Erlo Shapley trovate proprio che nel 1925 assume Cecilia Payne ed è la prima persona a fare un dottorato in astronomia Shapley è un altro illuminato che si spende tutta la vita per Cecilia per farla avanzare di carriera lei scrive questa tesi adesso vediamo che cosa esce dalla sua tesi e viene salutata come la più brillante tesi mai scritta in astronomia ora mi permetto una piccola parentesi non è che le donne non ce la facessero nell'ottocento nei primi anni del novecento se erano estremamente bravi estremamente tenaci estremamente pronte a sacrificio estremamente brillanti ad un uomo tutto questo non era chiesto un uomo poteva fare un dignitosissimo e onestissimo lavoro di media bravura medio sacrificio media tenacia e andava bene alle donne questo non bastava perché o eri veramente convinto o il primo rato è forte di torno ti faceva tornare a casa dicendo vabbè ma ma chi me lo fa fare ed era finita lì quindi lo potevi fare ma dovevi veramente veramente essere eccellente questo è il discrimine forte non so se è cambiato del tutto però vabbè delle migliorie ci sono state Cecilia capisce guardando sempre quelle famose righe nere utilizzando l'equazione di Sa del gas del insomma sullo studio dei gas che quelle righe raccontano anche la temperatura delle stelle e capisce che alla classificazione di Annie Cannon e ai colori si possono associare delle temperature le stelle blu sono stelle di 40.000 gradi sulla superficie le stelle gialle di 6.000 le stelle rosse di 3.500 cioè le stelle più calde sono quelle blu le stelle rosse sono quelle più fredde è esattamente il contrario del rubinetto dell'acqua ok blu è freddo rosso è caldo le stelle vanno al contrario ok perché i fotoni blu sono più energetici dei fotoni rossi ok bene il sole che è una stella di tipo G ha una temperatura di 5.780 gradi quindi consistente con le previsioni di Cecilia e di Annie queste sono alcune pagine della sua tesi vabbè niente qui è solo per far vedere come da alcuni elementi chimici lei cerca di capire esattamente qual è la temperatura delle stelle dopodiché Cecilia capisce anche sempre da quelle righe che c'è una preponderanza di elementi chimici come l'idrogeno e l'eglio rispetto agli altri elementi chimici all'interno delle stelle per 10.000 parti di idrogeno c'è una mille di elio 8 di ossigeno 4 di carbonio e poco di tutto il resto di modo che la massa delle stelle è a 70% idrogeno 30% 25-30% elio e proprio sono delle tracce gli altri elementi complessi Cecilia è molto preoccupata da questo dato perché non torna non torna con le teorie di allora che pensavano che le stelle fossero composte più o meno della stessa composizione della terra e allora scrive una lettera a Henry Norris Russell che è un luminare dell'astronomia di quel secolo il quale risponde sia a Shapley che a Cecilia dicendo la seguente cosa caro Shapley ti prego di accettare i miei sentiti ringraziamenti per la tua lettera e per la copia di presentazione dell'amirevole libro di Miss Payne è la miglior tesi di dottorato che abbia mai letto con l'eccezione forse di una sulle orbite delle binarie ad eclissi questa è quella di Shapley mi sta un po' facendo così una carineria e deve essere fortemente raccomandata non solo alle biblioteche degli osservatori ma a tutti gli studenti mentre lo leggo l'ho già divorato avendolo ricevuto solo ieri mi stupisco sempre più della sua capacità di comprensione del soggetto della chiarezza di espressione e del valore dei risultati di Miss Payne molti dei risultati li conoscevo già colpisce in particolare l'eleganza delle conclusioni e poi scrive a Cecilia e dice gentile Miss Payne ecco finalmente le note sulle abbondanze relative che è stata così gentile da mostrarmi i suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti molte discrepanze anzi sono risolte rimane però una discrepanza piuttosto seria quella relativa all'idrogeno elio e ossigeno su questo punto credo ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente è chiaramente impossibile che l'idrogeno sia un milione di volte più abbondante dei metalli 1929 Russell pubblica un articolo in cui dichiara che la composizione delle stelle è fatta 70% di idrogeno 25-30% di elio e traccia degli altri elementi complessi se voi chiedete chi ha capito qual è la composizione della stella alla storia passa il nome di Russell nonostante lui pare abbia scritto nero su bianco nell'articolo che il merito era di Cecilia Payne io sono andata a cercarlo non l'ho trovato può essere che abbia cercato nel posto sbagliato di fatto quando a lui chiederanno un consiglio per il futuro direttore di Princeton perché il direttore doveva andare in pensione lui dirà io ho il nome però è il nome di una donna e lavora a Harvard ed è Cecilia Payne che però rimane ad Harvard dove Shapley cercherà con ogni modo di farle fare carriere lei diventa la prima donna a capo di un dipartimento di Harvard e nel 67 diventa professore merito dell'Harvard University l'ultima donna che andiamo a conoscere Margaret si laurea nel 1939 anno che non è un grand che in Inghilterra dove lei si laurea perché in Inghilterra sta per entrare in guerra con la Germania cerca in qualche modo di andarsene e legge su un annuncio del The Observer che stanno cercando personale all'università di Carnegie di Mount Wilson fa domanda e le dicono di no la lettera di rifiuto diceva semplicemente che i posti al Carnegie Fellowship erano riservati agli uomini apparentemente alle donne non era concesso l'uso dei telescopi di Mount Wilson scoprì solo più tardi che le ragioni basilari per cui le donne non erano ammesse al telescopio includevano il fatto che c'erano solo sanitari per uomini e che i tecnici del telescopio chiamati assistenti notturni non avrebbero accettato di prendere ordini da una donna cioè c'erano i bagni per gli uomini e non c'erano i bagni per le donne quando vi dicevo che non è necessario avere scritto nello su bianco che le donne non possono andare basta qualche difficoltà in mezzo bene lei insieme al marito Fowler and Oil firma uno degli articoli più importanti dell'astronomia in generale proprio perché è l'articolo che sancisce come si creano gli elementi chimici all'interno delle stelle tramite otto reazioni di tipo termonucleare diversi vengono prodotti tutti gli elementi della tavola periodica all'interno delle stelle il tutto partendo dall'idrogeno ora di fatto come è fatto un atomo un qualunque atomo di un elemento chimico al nucleo composto da neutroni e protoni e attorno gli elettroni e allora guardiamola questa complicatissima tavola periodica che compie 150 anni e che si legge come qualunque libro dall'alto in basso da sinistra a destra come si legge beh il primo elemento è quello che ha un protone nel nucleo l'idrogeno il secondo elemento ha due protoni nel nucleo elio il terzo elemento ha tre protoni nel nucleo il litio il beriglio quattro protoni nel nucleo è il quarto il quinto è il boro il carbonio è il sesso insomma semplice ora c'è da capire in realtà come si formano gli elementi chimici la prima reazione che si sviluppa all'interno delle stelle la più semplice quella che in realtà interesserà la stella per il 90% della sua vita è quella che la porta a fondere a far scontrare quattro atomi di idrogeno quando noi astronomi diciamo atomo di idrogeno per noi significa protone perché l'atomo di idrogeno ha al suo centro al suo nucleo un protone l'elettrone è talmente piccolo che non lo consideriamo neanche quindi sostanzialmente quattro atomi di idrogeno cioè quattro protoni interagiscono per andare a formare un atomo di elio non guardate questi due perché qui entrano e qui escono e noi non li consideriamo ora la cosa straordinaria è che dovete pensare che ogni protone ha una massa di mille non ho messo l'unità di misura apposta chi se ne frega mille più mille più mille più mille quanto fa? ce la possiamo fare tutti? quattromila quindi se l'esito è un atomo di elio io metto insieme mille più mille più mille più mille mi aspetto di ottenere ce la potete fare mi fido di voi quattromila vado a pesare l'atomo di elio che è il prodotto di questa reazione e trovo che pesa tre mila novecentosettantadue è pochino di meno però è di meno cavoli manca della massa ecco questa massa mancante è stata come uno spigolo vivo sul cervello degli astronomi degli scienziati per anni fino a che arriva un signore capelli arruffati bianchi baffi lingua di fuori che ti dice che in realtà quella massa persa si è trasformata in energia E uguale mc quadro quindi quelle 28 unità di massa che mancano si sono trasformate in energia ed è l'energia che viene prodotta all'interno delle stelle quanto sarà per ogni reazione 4 per 10 alla meno 12 joule 0,0000000 000000 000000 4 joule insomma pensavo a una roba un po' più un po' più forte c'è un watt che usiamo in casa è un joule al secondo qua è 0,0000 però è poco ma gli atomi all'interno del sole delle altre stelle sono davvero davvero tanti e quindi in realtà con queste semplici reazioni termonucleari una stella come il sole ha già vissuto 5 miliardi di anni e può vivere per altri 5 miliardi di anni ora quindi semplificando al massimo 4 atomi di idrogeno protoni si incontrano per andare a formare un atomo di elio e a questo punto vi faccio una domanda non faccio davvero a voi ma la faccio a Gabriele perché so che poi risponderà ora e quando finisce l'idrogeno che fa una stella ma soprattutto idrogeno ed elio la tavola periodica aveva un maggior numero di elementi rispetto a idrogeno e elio dove si formano tutti gli altri su questo lascio la parola ovviamente a Gabriele che vi saprà rispondere grazie aspetto bene buonasera allora conoscete Richard Feynman di nome? avete mai sentito? Richard Feynman è stato secondo me il più grande fisico dopo la seconda guerra mondiale è una figura per noi leggendare mitologica è ovviamente stato insegnato il premio Nobel ha fatto scuola e se andate su YouTube ci sono un sacco di interviste era tra l'altro un grande divulgatore ha fatto dei seminari memorabili è indicato come l'iniziatore tra l'altro di una cosa su cui lui non lavorava che era la nanotecnologia e a Richard Feynman chiedono ma secondo te qual è stata la scoperta la teoria fisica più grande e lui Richard Feynman risponde è stata la teoria atomica considerate che lui era il guru della meccanica quantistica era quello che ha risolto problemi che nessuno era riuscito a risolvere prima invece dice che la cosa più importante che l'umanità ha scoperto era la teoria atomica di molti anni prima e questo perché Feynman dice la teoria atomica riesce cioè la realtà è fatta da atomi da robine da cose piccole con questa semplice idea si riesce a spiegare una grandissima varietà di fenomeni che nessun'altra teoria riesce a pareggiare si riesce a spiegare il colore il calore i fluidi la termodinamica tutto quello che volete parte dal fatto che la realtà è fatta da atomi quindi come avete già immaginato eccetera diventa fondamentale sapere dove sono fatti questi atomi dove vengono e chi li fa e quando si fanno in che condizioni vi dico subito ma l'avrete già immaginato che per fare gli elementi per fare degli atomi occorre una situazione non tranquilla occorre una esplosione occorre tanta energia e vedremo prestissimo perché e ovviamente la madre di tutte le esplosioni l'evento più energetico della nostra storia è stato il Big Bang Big Bang nasce 13,8 miliardi di anni fa e se ci pensate è straordinario che noi riusciamo a capire quando è nato il tutto noi sappiamo con grandissima sicurezza che tutto il nostro universo è nato 13,8 miliardi di anni fa e vi devo anche dire la verità non ve lo racconto stasera perché se no tiro lungo ma è facile è molto facile scoprire quanti anni abbiamo è facile come dire se quella macchina va a 50 km all'ora e adesso la trovo a 50 km quanto tempo fa è partita è partita da qua va a 50 km all'ora e a 50 km di distanza da me quanto tempo fa è partita un'ora fa è uguale sostituite macchina con galassia misurate la velocità misurate la distanza e trovate il tempo di nascita dell'universo ora la teoria dell'istante zero non ce l'abbiamo l'istante zero vuol dire l'istante proprio dove è nato il tutto perché non ce l'abbiamo perché ovviamente era un punto di grandissima densità forse infinita densità di materia e quando avete una grandissima densità di materia avete una grandissima gravità e dovete usare la relatività generale e poi tutta questa roba era concentrata in un punto e quando parlate dovete scoprire che cosa succede nel molto piccolo dovete usare la meccanica quantistica quindi è proprio un evento che deve essere descritto da una teoria che comprenda le due teorie colonne portanti della fisica del secolo scorso e questa teoria non c'è non ce l'abbiamo quindi ai tempi microscopici molto meno di un battito di ciglia la teoria è carente però superato questo scoglio diciamo che dopo 10 alla meno 10 10 alla meno 15 secondi 0,0 15 volte 0 1 secondi la teoria diventa credibile e sappiamo quindi benissimo con grande affidabilità quello che succede per esempio a un centesimo di secondo dall'inizio dal tempo zero del Big Bang la temperatura vedete lì era 100 miliardi di gradi quindi tutte le particelle tutte le cose avevano questa energia e finalmente in quel momento lì c'erano poco prima di quel momento la temperatura era così grande l'energia era così grande che perfino i quark sapete che i protoni i neutroni sono fatti da quark e riuscivano a essere isolati non raccolti in triplette eccetera perché avevano così tanta energia che superavano perfino l'energia che li teneva insieme quindi erano liberi di andare in giro c'era una quantità enorme di particelle e insieme a queste particelle c'erano tutte le antiparticelle quindi c'erano i protoni gli antiprotoni gli elettroni e i positroni e così via a quella istante lì a quella temperatura succede che l'energia si è abbassata sufficientemente da permettere ai tre quark di stare insieme e una volta che stanno insieme loro formano le due componenti fondamentali della della materia cioè il protone che è fatto da due quark up e un down ma non importa e il neutrone che è fatto da due quark down e un up il neutrone è neutro il protone è carico il neutrone è leggermente più pesantino ma poca roba poca roba sono due particelle dal peso quasi quasi uguale quindi tutti i protoni nascono lì il protone è il nucleo dell'idrogeno quindi tutto l'idrogeno nasce 13,8 miliardi di anni fa meno un centesimo di secondo più o meno bene dopodiché abbiamo l'altro questo è l'atomo più semplice l'idrogeno abbiamo l'elio l'elio ha due protoni e due neutroni l'aria vi ha detto che c'è il ciclo protone-protone che riesce a produrre l'elio eccetera ma qui si scontra subito contro una difficoltà fondamentale cosa fanno due cariche uguali? si respingono e nell'elio abbiamo due neutroni che vabbè sono neutri quindi loro possono stare lì ma i due protoni perché sono come fanno a rimanere dentro il nucleo di elio? perché l'elio non scoppia? questa era la domanda che ha obbligato i fisici a proporre a pensare che ci deve essere oltre alla gravità e oltre l'elettromagnetismo una forza che deve tenere insieme le cariche uguali perché se no non riusciamo a fare gli elementi no? e questa forza ovviamente deve essere fatta in un modo particolare perché innanzitutto deve essere più forte dell'elettromagnetismo e con grandissima fantasia quindi chiamano questa forza forza forte perché è più forte dell'elettromagnetismo e poi deve comportarsi in maniera diversa perché la gravità e l'elettromagnetismo decrescono con la distanza in maniera regolare vi ricordate con l'inverso del quadrato della distanza eccetera la forza forte no la forza forte oltre a una certa distanza la potete assolutamente trascurare infatti le cariche se le mettete normalmente a qualche distanza si respingono soltanto quando due cariche uguali quasi si toccano quindi quando due protoni riescono a toccarsi allora solo allora sono preda della forza forte diventa preponderante quindi ha un raggio di azione questa forza forte abbastanza ridotto però per riuscire a essere preda di questa forza forte voi dovete riuscire in maniera preliminare a far sì che i due protoni quasi si tocchino e questo è difficile perché loro hanno la tendenza a respingersi come si fa a far sì che due cariche uguali due protoncini si quasi si toccano e si devono sparare uno contro l'altro a grandissima velocità in modo che con la loro velocità la loro velocità superi la la forza repulsiva elettrica ma che cos'è la velocità degli elementi dei protoni in un gas è associata se vi ricordate alla temperatura più la temperatura è grande temperatura grande vuol dire moto più veloce delle molecole o degli elementi che compongono un gas o compongono la materia quindi soltanto se la temperatura del gas dove avete i protoni eccetera supera un certo valore riuscite ad avere dei protoni che per caso quasi si scontrano si avvicinano quando riescono a superare questa distanza a essere meno distanti di questa distanza critica cracchete sono beccati dalla forza forte e fanno un nucleo la temperatura critica nel caso del sole è la temperatura del nucleo del sole che è circa 15.000 gradi quindi abbiamo che nel primo universo che era molto denso e dove la temperatura stava scendendo bisogna aspettare circa un minuto perché la temperatura e la densità siano quelle giuste per far sì che i protoni possono quasi collidere ed essere presi dalla forza forte questo succede per tre minuti due se volete comincia da uno e pincia tre quindi l'elemento successivo che è l'elio che ha nel suo nucleo due protoni e due neutroni è formato nei primi tre minuti dell'universo quindi tutto l'elio dell'universo più o meno non tutto perché poi ci sono le stelle come il sole che accrescono la percentuale di elio e ne troviamo 25% in peso cosa succede dopo siamo arrivati ad un punto nella storia dell'universo che è giovanissimo ha tre minuti però la temperatura continua a scendere continua a diminuire la densità anche continua a diminuire perché lui si espande e quindi tutta la roba che c'è dentro diventa più rarefatta per modo di dire rarefatta perché sono densità comunque enorme comunque meno allora dopo l'elio abbiamo il problema di unire per esempio o un idrogeno con l'elio o un nucleo di elio con un altro nucleo di elio o ancora la possibilità di unire tre nuclei di elio insieme tutti questi eventi tutti questi fenomeni però comportano la presenza da una parte di due protoni e dall'altra o di uno o di due protoni la forza repulsiva è di più di prima perché qui ho due cariche uguali qua due cariche uguali si respingono di più quindi bisognerebbe avere una temperatura maggiore di quella che era stata necessaria per fare l'elio e non c'è più perché la temperatura dell'universo diminuisce quindi l'universo smette di fare gli elementi fa un po' di borbe l'ilio ma pochissima roba proprio quindi il Big Bang ha fatto principalmente l'idrogeno nel primo centesimo del secondo e l'elio nei primi tre minuti poi basta finito andando avanti la temperatura diminuisce la densità diminuisce non ci sono più le condizioni per fare gli elementi più pesanti in natura naturalmente vedete esiste l'elemento più ricco di protoni che è l'uranio che ha 92 protoni e addirittura 146 neutroni è il più complesso bene quindi non si formano gli altri elementi la storia va avanti no la il Big Bang non il Big Bang ma l'espansione della materia dell'universo va avanti e succede che invece di essere completamente completamente omogeneo l'universo ha delle piccolissime disomogeneità tenete presente che se voi se vi ingegnate e dite io voglio un universo completamente omogeneo vuol dire che qui in questo metro cubo c'ho un miliardo di robe un miliardo di atomi e qua c'ho un miliardo di atomi non uno di più non uno di meno questo è più difficile che a dire ma qui più o meno c'ho un miliardo di atomi posso averne un miliardo e tre invece di là c'ho un miliardo meno tre questa è una situazione più facile da ottenere quindi nel primo universo c'erano queste piccolissime discrepanze come è normale che ci siano dappertutto che cosa succede? qui dove c'ho un miliardo e tre c'ho leggermente più gravità che là quindi questo grumo di materia iniziale ha avendo un pochino più di gravità attira di più che quel grumo là e quindi questo cresce di più di quello là in questo modo accresco il contrasto tra il numero di atomi che ho qui e il numero di atomi che ho là formo le prime concentrazioni di materia posso con i calcolatori di oggi eccetera si possono fare delle simulazioni con molta cura e quello che vedete è una simulazione di quella che era la distribuzione di materia dopo uno o due miliardi di anni dal Big Bang vedete che c'è un grumo grande e ci sono dei filamenti tutti intorno e ci sono delle zone con i vuoti cioè l'universo è una spugna più o meno spugna ha questi filamenti queste pareti ha dei vuoti tra l'altro immagino che voi sappiate che la maggior parte di materia che costituisce l'universo è scura per ogni parte di materia normale ci sono cinque parti di materia scura poi ci sono tante altre parti di energia oscura quindi la composizione dell'universo adesso è 70% energia oscura 25% materia oscura 5% materia normale noi sappiamo qualcosa della materia normale non sappiamo che cosa sia la materia oscura non sappiamo ma addirittura proprio non abbiamo nessuna idea di che cosa sia l'energia oscura sappiamo qualcosa quindi del 5% noi le stelle tutto quello che vediamo eccetera appartiene questo 5% il 95% è oscuro non emette un luce quindi oscuro non sappiamo cosa sia e quindi oscuro a noi alla comprensione nostra va bene quindi questo qui se volete è la spugna oscura della materia oscura del primo universo andando avanti in uno di quei grumi si formano le galassie le prime galassie si forma la via latta le stelle più vecchie della nostra galassia hanno circa 12 miliardi di anni quindi insomma ci sono formate abbastanza presto dopo il big bang sapete che la nostra galassia è una galassia spirale ha i bracci e la luce da una parte all'altra ci mette 100 mila anni ad andare noi siamo lì siamo vicini non siamo neanche dentro non siamo al centro assolutamente non siamo in un braccio neanche in un braccio siamo siamo alla periferia fuori dal braccio più vicino che il braccio di Orione ma non siamo neanche dentro siamo in completa periferia a 26 mila anni luce dal centro non siamo assolutamente in un posto privilegiato siamo in un posto assolutamente comune poi si scopre anche che questo è un bene perché siamo lontani dalla raggi formati dalle stelle vicine grandi eccetera ultravioletti raggi X che ci farebbero male farebbero male alla vita ma e quindi siamo in un posto tutto sommato tranquillo la galassia ha 200 miliardi di stelle circa si calcola che nell'universo osservabile ci siano 200 miliardi di galassie se fate i conti quindi sono 40 mila miliardi di miliardi di stelle e da una decina no decina d'anni no ma è un annetto o due che noi sappiamo che circa la metà delle stelle ha un sistema planetario composto da più di un pianeta quindi la metà però c'è più di un pianeta quindi sappiamo che i pianeti sono più delle stelle cioè il fatto che il pianeta solare abbia tanti pianeti non è una rarità è normale anche le altre stelle possono avere 7, 8, 9, 10 pianeti e così via quindi ci sono più pianeti il vostro cervello aveva 100 miliardi di neuroni quindi 100 miliardi o 200 100 miliardi 100 miliardi i 100 miliardi di neuroni che voi avete avevate alla nascita dopo li avete cominciato a perderne ma è giusto che sia così cioè è l'evoluzione che ha portato ad avere un sistema ridondante in modo che se i neuroni non venivano usati morivano e quindi va bene quindi si poteva adattare a situazioni diverse dove gli stimoli potevano essere diversi e attivare un centro neuronale piuttosto che un altro quindi siamo più versatili più elastici va bene quindi questo è il nostro sole e il sole ha un raggio di 700 mila chilometri la terra ha 6500 quindi c'è un rapporto circa 100 tra i raggi del sole e della terra quindi il volume è un milione che va come il raggio al cubo quindi il sole ha un milione di volte più volume della terra in scala la terra è meno di questo puntino qui questo qui è una grande protuberanza che ogni tanto il sole fa la terra sarebbe minuscola sulla stessa scala e la terra e il sole produce tutta la luce che noi riceviamo e produce circa 4 per 10 da 33 che è un numero grande grande che se lo trasformiamo in massa e uguale a mc quadro però m allora è uguale a e su c quadro facciamo il conto e il conto vi da 22 milioni di tonnellate al secondo di massa del sole che vengono convertite in energia sembra tantissimo non gli fa né caldo né freddo non gli fa il solletico 2 milioni di tonnellate al secondo al sole ne ha molto 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 di più e riesce a brillare ancora riuscirà a funzionare ancora per 5 miliardi di anni e anche alla fine non si accorgerà neanche della perdita di massa che risorgia rispetto alla massa che ha ok quindi e come funziona il sole funziona come vi ha detto l'area con il ciclo protone protone quindi il sole produce elio nel suo nucleo circa il 10% il nucleo è fatto da circa il 10% della massa del sole il nucleo deve reggere il peso di se stesso e di tutto l'inviluppo tutta l'altra materia di questo 90% che pesa sul nucleo stesso per resistere a questa pressione che spinge in giù deve produrre lui una pressione che spinge all'altra parte lo fa bruciando producendo calore producendo fotoni attraverso queste reazioni termonucleari e quanto durerà ancora? altri 5 miliardi d'anni dopo finisce il combustibile cioè tutto l'idrogeno del nucleo si trasformerà in elio e basta il sole non brucia più cosa succederà allora? supponiamo questa qui è romanzata se voi siete sul balcone di casa in una bella giornata di sole guardate il sole e tracete improvvisamente vi mangia il sole diventa una gigante rossa in un tempo relativamente breve non minuti però è questa è romanzata il sole cioè l'inviluppo esterno del sole diventerà più grande diventerà così grande da oltrepassare l'orbita della terra e di assestarsi tra l'orbita della terra e l'orbita di Marte quindi noi andremo dentro il sole e farà molto caldo ma l'evento che precede questa cosa succede tra un miliardo d'anni non dobbiamo aspettare 5 miliardi tra un miliardo d'anni il sole aumenterà del 10% la sua luminosità sembra poco ma basterà questo aumento per far evaporare tutta l'acqua che c'è sulla terra diventeremo come la luna Marte e così via quindi bisogna andare via prima non dobbiamo preoccuparci la vita media di una specie di mammifero è 10 milioni di anni poi si evolve quindi l'uomo non c'è più chissà cosa ci sarà un miliardo d'anni comunque questo è per quanto riguarda l'inviluppo del sole il nucleo del sole invece che non è più sorretto dal calore che lui stesso produce implode perché la gravità vince prima c'era l'equilibrio tra gravità e pressione e il nucleo si rimpicciolisce si rimpicciolisce fino a far diventare il nucleo stesso una nana bianca una nana bianca ha una dimensione che è tipicamente uguale a quella della terra c'è un 10 mila chilometri di raggio circa e lì c'è un 70% della massa dell'intero sole densità un cucchiaino tirate su un miliardo di tonnellate una tonnellata scusate non un miliardo un miliardo sono le stelle di neutroni va bene quindi è bianca perché quando voi comprimete un gas lo scaldate ed è questo iniziale riscaldamento no che riesce a pompare energia nell'inviluppo e lo fa ingrandire e lo fa ingrandire fino a farlo diventare l'inviluppo del sole una gigante rossa se poi questo fenomeno non è continuo ma intermittente si formano le cose più belle che potete vedere nel cielo tra le più belle che sono le nebulose planetarie e forse anche il sole diventerà ogni tanto una fase che dura poco un diecimila anni che è pochissimo su scala astronomica ma ci fanno di quei disegni di quelle robe strapitose andate su google nebulosa planetaria viene fuori le cose immagini più belle che potete trovare in astronomia va bene quindi il sole converte idrogeno in meglio però tra l'altro l'idrogeno lo troviamo qui sulla terra ovviamente insieme a tanti altri elementi l'elio no l'elio non è stato trovato sulla terra cioè non è stato scoperto sulla terra è stato scoperto guardando quelle righe del nere del sole e non c'era niente di analogo sulla terra quindi l'hanno chiamato elio dal nome del sole in greco un elemento sole perché sulla terra non c'era l'ho scoperto dopo perché? perché l'elio non si lega con niente perché? perché è un gas nobile no? perché ha una ha riempito il perfettamente no? un guscio del di dove stanno gli elettroni e per lui lui sta bene così quindi non dà e non riceve elettroni da altri e quindi sta da solo non si lega va bene quindi l'idrogeno lo troviamo nei nostri corpi eccetera l'elio no perché non c'è sulla terra eccetera ma noi supponiamo di essere 100 kg per fare le percentuali in modo facile no? di che cosa siamo fatti? la domanda è non di quali molecole siamo fatti di quali elementi siamo fatti no? quindi non ditemi acqua perché l'acqua è una molecola fatta no? H2O due atomi di idrogeno di ossigeno eccetera no? ma in peso no? chi vince la 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 gara qui cioè qual è l'elemento che noi abbiamo in che abbiamo di più? può essere di idrogeno altri ossigeno carbonio ossigeno allora calcio allora l'idrogeno ce ne abbiamo un sacco numericamente ma l'idrogeno è leggero quindi nella gara di chili insomma di quanti chili siamo fatti eccetera non vince l'idrogeno vince l'ossigeno abbiamo 65 chili di ossigeno su 100 eh tanto tanto però è vero anche che siamo fatti di due terzi d'acqua no? quindi l'ossigeno è dentro tutta l'acqua che abbiamo secondo posto avete detto tra facciamo che o è l'idrogeno o è il carbonio eh? però il carbonio pesa di più eh quindi è andato indietro abbiamo il carbonio ora per come mai abbiamo così tanto bisogno di carbonio no? nella nella nostra nella nostra composizione non è solo nostra degli uomini anche delle molecole biologiche diciamo no? eh perché? perché il carbonio invece al contrario dell'elio è un compagnone voglio dire si va con tutti perché riesce o a dare o a ricevere no? gli elettroni in compartecipazione e quindi riesce a fare delle catene lunghe tra l'altro le riesce anche a fare con se stesso no? avete due cose molto diverse che sono però fatte da carbonio e basta che sono la grafite delle pantite e il diamante no? e ultimamente avete anche un altro materiale dalle proprietà che si stanno dimostrando molto particolari utili che è il grafene eh non solo però può stare da solo facendo delle lunghe catene ma si può collegare con altri atomi tipicamente quello che mangiamo noi mangiamo i carboidrati no? carboidrati carbonio e più o meno acqua no? quindi sono catene con tanti atomi di carbonio ossigeni e idrogeni no? e che cosa bruciamo? bruciamo gli idrocarburi che in questo caso come idro è davanti è solo idrogeno l'ossigeno non c'è idrogeno il metano per esempio è CH4 no? il carbonio è quattro atomi di idrogeno tra l'altro gli idrocarburi sono biologici sono le le vecchie piante no? che compressioni eccetera si sono trasformati in petrolio carbone e così via quindi il carbonio è un elemento fondamentale per la nascita della vita e la mia versione di quello è per forza perché la vita richiede un sacco di informazione per svilupparsi pensate al DNA il DNA è la chiavetta USB più potente che ci sia ha una capacità che è insuperata ancora dall'uomo dalla tecnologia moderna eccetera quindi lo potete pensare come il magazzino di informazioni più efficiente che abbiamo perché la vita ha bisogno di informazioni quindi tante informazioni non si possono scrivere su una cosa che ha soltanto cioè si può si scrivere su una cosa che ha soltanto due stati tipo no si no 0 1 eccetera ma ce ne vuole tanta di questa roba e ci vuole il modo per collegarla per fare i collegamenti tra le varie cose il carbonio invece è capace di fare delle catene lunghe su cui scrivere le informazioni e leggere le informazioni e per questo si dice che la vita nostra è basata su carbonio vabbè al terzo posto che ci mettiamo adesso è ora no è ora ci mettiamo l'idrogeno abbiamo quindi 10 kg di idrogeno bene al quarto posto azoto bravi il 3% l'azoto è il componente principale dell'atmosfera nostra 78% c'è di azoto 21% di ossigeno tracce di energia carbonica in salita in crescita il quinto posto è il calcio le ossa le cose e al sesto posto abbiamo il fosforo cervello mangiamo pesce perché abbiamo fatto 6 elementi questi 6 elementi formano 99 kg quindi il 99% di un corpo umano è fatto da solo 6 cose ovviamente noi abbiamo bisogno abbiamo anche un sacco di altre cose come quelle scritte lì potassio zolfo cloro sodio magnesio ferro e così via ma la gran parte è fatta soltanto da questi 6 e l'idrogeno abbiamo già visto tutto il nostro idrogeno che abbiamo dentro ha 13,8 miliardi di anni hanno più hanno meno però abbiamo visto che il Big Bang fa solo l'elio e a noi l'elio non interessa neanche e fa però l'idrogeno noi sulla terra o elementi naturali sulla terra non sono mai riusciti a a farsi quindi sulla terra non si fanno elementi nuovi che volessero fare gli alchimisti che volevano trasformare il piombo in oro ma non ci sono mai riusciti non è stato il Big Bang chi è stato e l'aria vi ha detto che sono state le stelle ma il sole no il sole deve essere stato un altro tipo di stelle e l'altro tipo di stelle devono essere stelle che al loro centro lo possiamo immaginare e qui il problema è come facciamo a riunire ad avvicinare dei nuclei che hanno sempre più protoni che hanno la tendenza quindi a respingersi sempre di più e dobbiamo spararli uno contro l'altro con sempre maggiore velocità quindi dobbiamo avere dei nuclei con temperatura maggiore come si fa ad avere una temperatura maggiore? si fa che c'è un peso grandissimo dell'inviluppo esterno che pesa sul nucleo che viene compresso tanto e quindi già naturalmente il calore della compressione è tanto e poi quando si sviluppano le reazioni queste possono essere sostenute automantenersi perché la temperatura è grande perché sono molto compresso quindi soltanto le stelle più grandi riescono a fare gli elementi più pesanti e se prendiamo le stelle che hanno all'inizio una massa tra 8 volte quella del sole e 20 volte quella del sole avete una composizione finale di questo tipo di questo tipo qua vedete che è un po' cipolla avete nello stato esterno ancora l'idrogeno da bruciare poi in quello più interno l'elio poi c'è il carbonio il neon l'ossigeno il silicio il ferro e il ferro ora quando una stella arriva in questa configurazione dove nel nucleo più nucleo più interno fate il ferro e quindi quando tutto il silicio si trasforma in ferro succede una catastrofe colossale disastro per la stella fare il ferro perché perché fino a quel momento mettere insieme roba voleva dire produrre energia come nella bomba all'idrogeno nella bomba all'idrogeno noi mimiamo quello che fa il sole eccetera abbiamo una roba l'idrogeno mettiamo insieme si fa l'elio e abbiamo prodotto i 7 per 1000 di energia convertito i 7 per 1000 della massa in energia va bene facciamo il carbone prendiamo 3 atomi di elio 2, 2, 2 facciamo un atomo di carbonio facciamo un sacco di energia quindi scaldiamo tanto però quando tentate di bruciare il ferro cioè prendete il ferro tentate di metterci attaccato un atomo un nucleo di elio non fate energia ciucciate energia quindi richiedete energia non la fate non la producete richiedete energia quindi l'energia lì c'è perché la stella è calda ma quando se anche riusciste a farlo voi state raffreddando la stella e raffreddare il nucleo è un disastro completo perché la stella non sta più su lei sta su perché la pressione di tutti gli atomini che c'ha dentro riescono a puntellare le pareti dal peso enorme dell'inviluppo che sta pesando e dal peso stesso del nucleo se adesso gli togliamo energia è come se togliessimo l'impalcatura tutto crolla implode quindi quando si arriva al ferro il nucleo implode quindi le stelle che hanno da 8 a 20 masse solare riescono a fare il ferro ma a fare il ferro è un disastro quindi quando si arriva al momento implode implosione e l'implosione interessa soprattutto il nucleo quindi qui è la situazione in equilibrio la pressione dovuta alle reazioni termonucleari contrasta ed è in equilibrio con la gravità adesso tiro via la pressione cosa fa? la gravità vince e quello che succede è che il tutto crolla però chi crolla prima? allora il crollo interessa prima le regioni più dense il tempo di implosione è più piccolo se avete una roba più densa quindi il primo a implodere è il nucleo è una questione di millisecondi è una cosa velocissima l'inviluppo che sta pesando sopra è un pochino più rarefatto è meno denso e quindi lui cade sì ma cade con minore velocità quello che al nucleo succede e guarda è che prima c'aveva i piedi per terra e gli si toglie il pavimento gli si toglie a terra sotto i piedi proprio quindi comincia a precipitare il nucleo quindi si si precipita prima implode prima arriva a fare il nucleo una stella che ha dieci chilometri solo di raggio una stella di neutroni ha una densità appunto di un centimetro un cucchiaino è un miliardo di tonnellate è una densità enorme e lì c'è una massa solare mezzo circa nella stella di neutroni in una regione come Milano centro di Milano ci starebbe tutta la stella di neutroni il raccordo annullare di Roma ci sta tutta la stella o la circonvallazione esterna di Milano più o meno e la materia dell'inviluppo che sta accadendo sta accadendo ad un certo punto incontra il terreno duro qua la superficie dura della stella di neutroni converte tutta l'immane energia cinetica che ha guadagnato convertendola dalla potenziale eccetera e la trasforma in calore e lì c'è un rimbalzo incredibile c'è la formazione di temperature di miliardi di gradi tra l'altro con una densità molto grande quindi ci sono pochi attimi dove avete le condizioni migliori per fare gli elementi pesanti avete l'energia sufficiente da dare per andare oltre al ferro quindi lì fate i materiali dal ferro fino alla metà della tavola periodica 45-50 diciamo fino all'argento tanto per semplificare ok no? poco perché non sono stato chiaro qua chiaro eh no il sale dopo mi si trova la fine no? il resto c'è il finale il gran finale e allora in quegli istanti lì ripeto no? del rimbalzo abbiamo la conversione di tutta questa energia decaduta della materia dell'inviluppo che sta cadendo no? si spatascia sulla superficie della stella dei neutroni converte tutto in calore avete una densità spaventosa e una temperatura spaventosa lì riuscite a convincere tutti i nuclei a toccarsi e anche se quando fate i nuclei più pesanti del ferro richiedete energia ne avete così tanta che gliela date e basta e fate gli elementi più pesanti si formano lì in quei pochissimi secondi ma forse neanche secondi frazioni di secondi dopodiché il tutto visto che è un calore immenso per fare gli elementi ne usate soltanto una parte il tutto si espande si riespande rimbalza e fate un'onda d'urto che raggiunge la superficie all'inizio una velocità di 10.000 km al secondo e fate esplodere tutto l'inviluppo cioè la stella esplode a parte il nucleo che è una stella di neutroni adesso tutto il resto esplode e l'esplosione la chiamiamo supernova quindi le supernove sono la fine pirotecnica delle stelle pesanti delle stelle tra 8 e 20 massi solari ce n'è una famosa che è la nebulosa del granchio che è un resto di supernova che è scoppiata mille anni fa e sta ancora andando questi detriti stanno andando a 1500 km al secondo stanno rallentando un po' ma mica tanto e c'è l'estensione qualche anno luce che è tutta la strada che i detriti hanno fatto dal 1054 ai giorni nostri bene e anche queste sono tra gli oggetti più belli che potete vedere nel cielo la distanza che ci separa da questa supernova è 6.500 anni luce tra l'altro è una distanza di sicurezza se fosse meno di 3.000 potremmo avere dei problemi non direttamente dai resti supernova che ovviamente ci metterebbero tanti anni ad arrivare tanti millenni ad arrivare ma dalla produzione di raggi X e raggi gamma durante lo scoppio che incidendo sullo strato di ozono dell'atmosfera della Terra lo vaporizzano e fanno niente quindi i pochi raggi gamma che vanno sulla Terra non hanno un'incidenza loro preponderante perché durano molto poco l'emissione però avendo spazzato via l'ozono lasciano i raggi del Sole ultravioletti del Sole penetrare e hanno un effetto molto grave sulla primi 10 cm di profondità del mare dalla superficie del mare dove c'è un sacco di plankton il plankton è alla base di una catena elementare e quindi tante specie vengono spazzate via chiuso parentesi va bene quindi la prima conclusione è che siamo proprio vecchi quindi perché perché questa supernova perché tutti gli elementi che abbiamo qui intorno di cui è fatto il sistema solare eccetera a parte l'idrogeno che viene dal Big Bang deve essere stato fatto da una stella grande che esplosa e non esplosa a caso esplosa qua vicino perché deve aver arricchito il materiale da cui poi si è formato il Sole e il pianeta il sistema solare quindi deve essere stata una supernova che è scoppiata più di 5 miliardi di anni fa nei nostri dintorni quindi e noi siamo pezzettini di quella roba lì tutto quello che vediamo ci forma eccetera una volta era là e si è formato durante il rimbalzo quindi non siamo figli delle stelle in senso romantico siamo figli o polvere di stelle nel senso letterale va bene tra l'altro se facciamo un grafico dove mettiamo qui sull'asse delle y l'abbondanza degli elementi nei dintorni del sistema solare che si pensa sia anche estendibile anche oltre il sistema solare verso il numero atomico e ogni tacca vedete ogni due tacche così è un fattore 10 quindi l'elio vedete è un fattore circa 10 meno abbondante dell'idrogeno e così via i sei elementi che vi ho indicato di cui noi siamo fatti al 99% sono quindi se vedete tra i più comuni nell'universo o nei nostri dintorni e sono quindi gli elementi che noi abbiamo utilizzato teorizzato eccetera mica tanto tempo fa un 15-20 anni fa prima si pensava che le supernove facessero tutto poi hanno cominciato ad avere dei dubbi che non bastavano le supernove occorrevano un altro un altro meccanismo comunque un meccanismo che deve mettere insieme le robe quindi deve essere molto caldo molto denso e anche se ha tanti neutroni non fa mica schifo perché il neutrone non viene respinto dal nucleo quindi se è un ambiente ricco di neutroni è meglio è più facile fare gli elementi pesanti perché non ha barriera ma non viene respinto dalla forza elettromagnetica e quindi è pensato che cos'è che corrisponde a questa descrizione questo è quello che vedremo ma contemporaneamente la tecnologia si è evoluta così tanto che e questo è un riassunto di quello che vi ho detto che è così tanto che nel settembre 2015 addirittura abbiamo potuto assistere alla rivelazione delle onde gravitazionali voi dite ma cosa c'entra le onde gravitazionali lo vediamo tra pochissimo no? la prima il primo evento che è stato rivelato è stato quello della scontro collisione e fusione di due buchi neri c'erano due buchi neri che orbitavano l'uno attorno all'altro la massa di questi due buchi neri era di 30 e 35 masse solari quindi buchi neri grossi abbastanza grossi che orbitavano l'uno contro l'altro no? e circa un miliardino di anni fa perché la luce ci ha messo questo tempo per arrivare fino a noi le onde gravitazionali ci hanno messo questo tempo per arrivare fino a noi si sono scontrati si sono fusi e hanno prodotto un buco nero più grosso da 62 masse solari 30 35 fa 65 non fa 62 no? tre masse solari sono andate via in onde gravitazionali nell'energia delle onde gravitazionali questo ha scatenato l'entusiasmo gli hanno dato un premio nobel tre anni fa a Kip Thorne che era uno dei diatori di una delle antenne che ha partecipato alla rivelazione dell'evento e un massimo gurro della relatività generale e anche un aiuto sceneggiatore del film interstellar con cui ha preso l'oscar quindi Kip Thorne è uno dei pochi che ha preso sia l'oscar che è il premio nobel c'è un altro c'è altri due però non mi ricordo il terzo il secondo è Bob Dylan che ha preso il nobel per la letteratura e l'oscar per dei film che aveva fatto va bene l'altro non mi ricordo chi è però ha preso anche lui va bene l'onda gravitazionale allora che cos'è un'onda gravitazionale l'onda gravitazionale di solito viene presentata come una cosa molto difficile una cosa complicata è vero che è stata misteriosa per tanto tempo Einstein non ci credeva ha perfino scritto un articolo in cui diceva dopo la realizzità generale l'onda gravitazionale non può esistere l'ha mandato la rivista la rivista ha chiesto a un esperto del settore di dare un giudizio il giudizio era negativo perché ha trovato un errore Einstein si è arrabbiato come osate voi proprio così si è arrabbiato strano che non è tipico di Einstein è una reazione del genere però non gliel'hanno pubblicato un anno dopo ha scoperto lui stesso l'errore e meno male e quindi le onde gravitazionali potevano esistere eccetera ma a un certo punto fino agli anni 50-60 non si sapeva se le onde gravitazionali trasportassero l'energia o no la questione è stata risolta ma credo a cena a pranzo cioè proprio in un modo tipico di Feynman che ha detto ma sì che è certo che trasportano onde che trasportano l'energia supponiamo di avere una collanina no quella collanina che ha i grani della collanina allora il filo passa attraverso il buco fatto nei grani quindi i grani possono scorrere attraverso questo filo eccetera se passa un'onda gravitazionale quello che fa è cambiare lo spazio quindi i grani possono scorrere attraverso il coso quindi cambiano posizione se io ci metto un po' d'attrito in questi grani vuol dire che sfregano e fanno calore e quindi è chiaro che l'energia che sto ottenendo dal calore che ho prodotto deve venire dall'onda gravitazionale che fa muovere i grani questo non è mai stato pubblicato viene riportato come se fosse la favola una leggenda no da quel momento tutti si sono convinti però che l'onda gravitazionale trasportava energia e questo è vero l'onda gravitazionale vi dicono che è una distorsione dello spazio-tempo eccetera è vero cos'è che succede però in versione semplificata delle onde gravitazionali ho due masse separate anzi cominciamo da una sola no cominciamo da da una sola una massa da sola che pulsa sfericamente pulsa no allora la gravità che sentite voi che siete un po' lontani è data da che cosa dalla massa che sta pulsando no la vostra vabbè e dalla distanza quadrata dal centro della massa durante le pulsazioni cambia qualcosa cambia niente no quindi niente onde gravitazionali se la massa si muove sfericamente quindi pulsa le onde gravitazionali non si fanno perché non c'è nessun bisogno di avvertire tutto il mondo fuori che la gravità non cambia la gravità non cambia basta quindi non c'è bisogno di trasmettere niente ok adesso invece prendiamo due masse che sono in orbita una con l'altra no allora la gravità che sento quando sono allineata a me oppure la gravità che sento quando sono perpendicolare ma è diversa no e come faccio io là in fondo a sentire che è diversa chi è che me lo dice cioè io ho qualche cosa no di appeso eccetera misuro una gravità che cambia in pratica non si può fare bisogna essere molto vicini eccetera ma in linea di principio posso farlo no però ci deve essere qualche cosa che me lo dice una comunicazione una cosa che che sei finito sì sì va bene 10 è una comunicazione tra no le masse che girano e me e questa comunicazione sono le onde gravitazionali quindi le onde gravitazionali no hanno il compito di trasmettere il fatto che la gravità così o così è diversa no in tutti i punti dello spazio no sentono una gravità diversa però non lo posso non lo posso sentire istantaneamente perché sarebbe come trasmettere le informazioni istantaneamente no quindi ci deve essere qualche cosa che va alla velocità della luce per trasmettere questo fatto che la gravità cambia queste sono le onde gravitazionali quello che fanno quello che fanno però è una una roba stranissima cioè supponete di avere quelle robe lì quelle di palloncini io sono un palloncino sono così quando passo un'onda ho che le braccia si ritirano e mi allungo di statura poi le braccia si rilasciano e io rimpicciolisco di statura questa è non è la statura mia eccetera è lo spazio che fa così lo spazio si contrae si restringe si contrae si restringe in questo modo strano allora se io metto due bandierine qua e due bandierine qua e misuro la distanza me ne accorgo no anzi me ne accorgo due volte perché ad una contrazione delle braccia deve corrispondere un innalzamento di statura però devo misurare con una grande precisione la distanza che ho tra le braccia e tra cape e piedi quant'è questa precisione tipica per riuscire a rivelare una onda gravitazionale devo riuscire a misurare una distanza un cambiamento di distanza non una distanza un cambiamento di distanza dell'ordine di un millesimo della dimensione di un protone un millesimo della dimensione di un protone il fatto che ci siamo riusciti è un miracolo una cosa fantastica una cosa di una tecnologia incredibile un elemento chiave di questa tecnologia è quello di dire se non facciamo niente sentiamo le vibrazioni quindi la cambio di distanza se volete di un camion a 100-200 km quindi dobbiamo riuscire a intercettare e a zerare tutti i rumori che noi possiamo avere una delle idee base è quella di mettere il rivelatore attaccato ad un pendolo ma non unico ha una serie di pendoli qui c'è un pendolo attacco un altro pendolo un altro pendolo c'è una torre con sette pendoli uno attaccato all'altra in modo che tutte le vibrazioni così sono assolutamente smorzate se provate per credere attaccate sette sassi con delle corde e poi muovete così la mano e vedete che in fondo il movimento è molto minore quindi avete un'attenuazione di tutti i rumori ed è stato un italiano che purtroppo è morto due o tre mesi dopo la rivelazione della prima onda gravitazionale prima onda gravitazionale quei buchi neri lì 15 settembre 2015 buchi neri ma i buchi neri sono neri quindi in quel caso lì non si è visto nient'altro che l'onda si è rivelata l'onda gravitazionale non si è mica visto niente di luce quindi sono tre masse solari convertite in energia in onde gravitazionali sprecate dal punto di vista della produzione di luce perché sono neri i buchi neri ma c'è un altro sistema che invece la luce la potrebbe fare nonostante che abbia un bel po' di gravità e che possa fare quindi un bel po' di onde gravitazionali che è la stessa cosa non con i buchi neri ma con le stelle di neutroni noi prendiamo due stelle di neutroni le facciamo orbitare una intorno all'altra fino a che si avvicinano perdono l'energia si avvicinano si avvicinano ad un certo punto si scontrano si fondono e formano un buco nero ma in tutta la cosa precedente è possibile rilevare la luce se loro le facessero succede anche che nel momento immediatamente mili secondi prima della fusione vera le stelle di neutroni si spaccano un po' mostrano le viscere e vengono eiettati sparati fuori un 4-5% di una massa solare perché le forze sono così grandi le temperature sono così grandi e tutto è colossale che succede questa cosa quindi quello che succede è una mini supernova in realtà con 4 una supernova ha 15-20 masse solari eiettate fuori questi oggetti qua hanno un 4% ma nel momento in cui si toccano avete temperature di parecchi miliardi di gradi densità da stelle di neutroni quindi miliardi di tonnellate eccetera e un sacco di neutroni perché dopo tutto sono stelle di neutroni quelle che si scontrano avete le tre condizioni per fare gli elementi allora il 17 agosto del 2017 le antenne gravitazionali che sono tre nel mondo due in America e una vicino a Pisa Virgo è il nome dell'antenna che sono due braccia queste antenne sono due braccia da 4 km perpendicolari dove viaggia un laser rilevano il voi far notare due americane una italiana quello che aveva pensato l'attenuatore italiano cioè siamo molto forti nel campo ecco no? se dividessero la ricerca che facciamo diviso i finanziamenti o diviso il numero di persone nel settore saremo ampiamente primi del mondo con qualunque parametro utilizzato va bene questa è la un grafico che non fa nient'altro che ripercorrere questa distanza che aumenta diminuisce aumenta diminuisce in maniera ciclica no? ma c'è una cosa particolare che è questa sentite ci sono le oscillazioni queste oscillazioni di distanza eccetera che sono state trasformate in suono questo ma hanno un andamento caratteristico cioè le oscillazioni sono di bassa ampiezza e di di frequenza grave all'inizio no? e poi l'ampiezza sale quindi si sente di più e il suono diventa più acuto è proprio quello che fanno gli uccellini chirp quando fanno chirp il canto degli uccellini queste cose si chiamano chirp no? wup 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 no? ve lo faccio sentire ancora no? perché non c'è tempo andiamo andiamo avanti no? allora finora questi sono stati gli eventi che sono stati rivelati questi sono fusioni di buchi neri questo evento qua del 17 agosto 2017 vedete una stella di neutroni un'altra stella di neutroni che si sono fuse e hanno fatto una roba che si pensa essere un buco nero non si è 99-99% sicuri potrebbe essere una stella di neutroni più grossa però con grandissima probabilità è un buco nero la luce dove è finita? ti entra il buco nero dai il buco nero è nero non può uscire niente tutta la luce che noi abbiamo visto da questo evento di questa mini supernova eccetera è stata fatta fuori la massa è stata spinta fuori perché era molto calda eccetera e quindi è andata al di sopra e al di fuori del raggio di non ritorno altrimenti anche lei era fottuta e fine invece essendo stata spinta fuori ma in questione di millisecondi prima che si formasse il buco nero tra l'altro un pochino prima è riuscita a raggiungere un'altezza una distanza di sicurezza per cui è riuscita ad emettere tra l'altro all'inizio anche se era 4-5% di masse solari per il sistema per le dimensioni che c'erano lì sono tante lo stesso quindi era tutto pacca la roba la luce ci ha messo un po' di tempo per uscire quanto tempo? un secondo e7 cioè pensate a quello che è successo abbiamo ricevuto le onde gravitazionali ad una certa ora no? 9000 per dire a un'ora e abbiamo ricevuto il primo segnale elettromagnetico la luce un secondo virgola 7 un secondo e7 dopo il ricevimento dell'onda gravitazionale proprio lo sappiamo quindi sappiamo che la regione dove era contenuta e prodotta la luce è diventata trasparente quindi potuto uscire un secondo e7 dopo in confronto al millisecondo che è il tempo scala delle cose sì in confronto alla capacità dei nostri strumenti e alla no? e alla fretta che bisogna avere in quei momenti insomma mica tanto va bene quindi l'evento è lontano 130 milioni di anni luce quindi è successo 130 milioni di anni fa in una galassia lontana lontana e così via e c'erano ancora i dinosauri allora la luce in quel momento è partita dalle vicinanze di una galassia che adesso la vedrete questo è uno zoom fatto con i vari telescopi hanno fatto un filmino che hanno messo insieme i dati eccetera questa è la galassia che ha ospitato l'evento e adesso si vedrà un quadratino dove si vedrà quello che abbiamo ricevuto quello lì adesso la luce diventa prima blu poi diventa un po' rossiccia vedete quella è la luce della supernova della siccome non è è una mini supernova l'hanno chiamata kilonova perché supernova era rispetto alle nove che sono stelle eccetera super invece tu è kilonova perché va bene è di meno che una supernova va bene poi è sparita certo dopo è sparita e anche lui ha questo segnale a CIRP no nel momento dell'esplosione della kilonova abbiamo i tre ingredienti fondamentali per fare gli elementi quindi grande temperatura grande densità grande abbondanza di neutroni e lì facciamo tutti gli elementi più pesanti questo è un altro filmino queste sono le due stelle dei neutroni che ruotano l'uno intorno all'altro sempre più veloce sempre più veloce CIRP che a frequenza sale poi POM questa è la kilonova il materiale sparato via che quindi è già ricco di tutti gli elementi pesanti che sono fatti all'inizio ecco questo forse è pittoricamente il momento in cui si fanno si fondono le due stelle dei neutroni e lì c'è massima temperatura massima densità e così via si fanno gli elementi tutti gli elementi pesanti questo è un altro video fatto dall'insieme di questi spettri che sono stati beccati in questa serie ce n'è circa uno al giorno e noi siamo molto orgogliosi di questo perché sono dati che mi ha fatto anche noi colleghi miei all'osservatorio qui quindi abbiamo partecipato attivamente era agosto due giorni dopo ferragosto faceva molto caldo e questa è la nuova tavola periodica che indica con il colore la percentuale fatta in una supernova o fatta da questo scontro di stelle dei neutroni ma non va più lo stesso non va più morto è da un po' che mi sono accorto no e allora dove vedete l'arancione vedete Merging Neutron Stars che è la fusione di stelle e di neutroni e qui ho segnato l'oro no l'oro è stato fatto principalmente in questi eventi quindi noi siamo fatti da supernova eccetera ma la fede che ho viene da uno scontro di stelle e di neutroni più di 5 miliardi di anni fa avvenuto qua nei pressi e lo portiamo al dito eh quindi pensateci quando quando vedete l'oro una roba cioè incredibile no ecco quindi l'oro viene da là e ho avuto la fortuna di vederlo la maschera è tutta in camion è una roba spettacolare proprio così eccetera e grazie dell'attenzione grazie